Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Tgweb LIS del Consiglio regionale della Basilicata. La vicenda della clinica Luccioni di Potenza, dopo l'avvio della procedura per il trasferimento della sede e la sospensione dell'attività decisa dall'azienda sanitaria che ha chiesto alla Regione la verifica dei requisiti, è stata al centro delle audizioni svolte in Quarta Commissione. Ai 30 lavoratori senza stipendio da mesi, il Presidente Bradascio ha manifestato l'attenzione della Commissione che svolgerà nuove audizioni sui temi proposti. Preoccupazione per la sorte dei Lucani che vivono in Venezuela. La esternano i Presidenti del Consiglio regionale e della Commissione dei Lucani del Mondo, Mollica e Pace, in una lettera al Ministro degli Esteri. La crisi politica in atto rischia di compromettere le sorti della democrazia nel Paese sudamericano, dopo i continui scontri di piazza delle ultime settimane. Mollica e Pace chiedono al governo italiano di essere informati sugli sviluppi delle azioni diplomatiche intraprese. I disabili visivi lamentano la mancata fornitura degli ausili che contribuiscono a semplificare la vita quotidiana e ad acquisire autonomia. Lo hanno ribadito nell'audizione svolta nella Quarta Commissione parlando di una situazione fortemente incresciosa che indigna l'intera categoria dei non vedenti. Il Presidente Bradascio ha assicurato che la Commissione si farà portavoce delle esigenze rappresentate dalle associazioni presso il Dipartimento Sanità della Regione. Passare rapidamente dall'analisi della crisi alla soluzione dei problemi, individuando strumenti finanziari e di accesso al credito a favore dei produttori di fragole che si trovano in una situazione di grave difficoltà. E' quanto ha auspicato il Consigliere Castelluccio dopo il tavolo tecnico riunito dall'assessore all'agricoltura Braia sulla crisi della fragolicoltura. Chiesto il coinvolgimento dell'associazione bancaria per definire lo strumento di credito più efficace rispetto alle perdite dei produttori. Utilizzare le economie dei fondi stanziati per la cassa integrazione per dare una mano alle persone che sono in mobilità, che non lavorano e non possono andare in pensione o che hanno partecipato ai programmi per il contrasto alla povertà. E' la proposta del Consigliere Lacorazza che ha chiesto l'audizione del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo in Quarta Commissione anche per verificare lo stato di attuazione dei bandi per il sostegno alle imprese. I dati di Union Camere sulla mortalità delle imprese confermano che il tessuto produttivo lucano fa fatica a vedere la luce in fondo al tunnel della crisi. Lo sostiene il Consigliere Napoli per il quale occorre fare molto di più per supportare la voglia di fare impresa presente nella società lucana. Preoccupa in particolare la situazione dell'artigianato che per Napoli necessita di un'attenzione particolare da parte del Governo regionale. I luoghi ricordano e raccontano per restituire storie di comunità. Questo è il tema dell'incontro conclusivo del percorso sulla memoria promosso dal Consiglio regionale che ha visto protagonisti i ragazzi degli istituti comprensivi di Stigliano, Policoro e Matera. I ragazzi hanno visitato il Museo dell'Immigrazione a Lago Pesole e presentato gli elaborati frutto degli approfondimenti svolti sulla storia delle rispettive comunità. Con loro il Presidente del Consiglio regionale Mollica. I programmi per l'accesso rappresentano una grande opportunità per il mondo dell'associazionismo, lo ha detto la Presidente del Corecom La Morte, presentando il protocollo d'intesa sottoscritto con la RAI per l'accesso radiofonico e televisivo del mondo associativo alle trasmissioni regionali. Un'iniziativa di libertà e democrazia, ha detto il Consigliere Rosa, per dare voce a quel mondo dell'associazionismo che molto spesso non ha la giusta visibilità. È tutto, grazie per l'attenzione prestata e arrivederci alla prossima edizione.